In attesa della prossima puntata in diretta del GFV, prevista per la serata del 24 gennaio, Federica Calembe ha avuto un crollo psicologico e non è riuscita ad arrestare le sue lacrime, cadute copiose sul suo volto Il momento di enorme difficoltà è avvenuto davanti alle compagne di avventura Sofì Codegoni e Jessica Selassie Le quali si sono subito preoccupati per la giovane e le hanno chiesto il motivo di questo pianto E poi, dopo averla ascoltata attentamente, l'hanno incoraggiata Nei giorni scorsi Federica Calembe era stata beccata con Gian Maria Antinolfi in teneri atteggiamenti Una romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gian Maria Antinolfi e Federica Calembe sotto le coperte nella stanza dal letto della Love Boat Insomma, finalmente lei si era sciolta completamente con l'imprenditore, noto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez Dopo aver trascorso queste lunghe settimane nella casa più spiata d'Italia, Federica Calembe ha avuto un vero e proprio cedimento emotivo Non è ovviamente facile condividere questa esperienza con gente sconosciuta fino a poco prima dell'ingresso dalla Porta Rossa E inoltre la mancanza dei propri affetti si fa sentire e come Pensando in particolare ad una persona che le manca notevolmente, è scoppiata in lacrime e ha poi riferito il perché di questo suo stato d'animo molto malinconico Federica Calembe ha pianto a dirotto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l'altro è incinta Quindi, non ha la possibilità di godersi questi momenti magici con lei, penso di avere qualcosa che non va, pensavo a mia sorella e mi manca Mi dispiace di non essere la sorella che voleva. Non sono in grado di essere una persona molto affettuosa, quindi non sento quel trasporto fisico necessario con la famiglia In coro Sofia e Jessica hanno immediatamente tirato sull'umore di Federica Calembe, non devi affliggerti per quello che sei E in particolare la Codegoni ha aggiunto, io assomiglio molto a te, sono una persona riservata e anche fredda, ti capisco, però grazie a questa esperienza al GFB po' superato questa difficoltà Dovresti anche avvicinarti a Gian Maria sempre più, può aiutarti a scioglierti con tutti gli altri concorrenti